Una trasparenza non comunicata ha bisogno di professionisti della comunicazione. Nei nuovi contratti del pubblico impiego sono state introdotte le figure professionali, lo specialista pubblico, lo specialista della comunicazione pubblica. C'è chi parla della necessità di rinnovare una legge alla 150 del 2000 che nacque quando il web ancora quasi non esisteva, si parla di legge 151. Lei non pensa che sia un tema su cui intervenire? Sicuramente c'è una simmetria tra quello che sta accadendo adesso e la legislazione esistente che in realtà sembra non più aderente alla realtà. È chiaro che un ripensamento della normativa sarebbe utile. Io ho su questo punto già avviato una serie di riflessioni, però è un tema sul quale si deve cominciare sicuramente a trovare delle nuove soluzioni perché c'è direi un tipo di legislazione che non sembra prendere in considerazione il fenomeno attuale del nuovo tipo di comunicazione. Quindi a cosa servono delle leggi se non sono aderenti alla realtà? A nulla.